Sergio Divina, qual è la posizione della Lega Nord sulle missioni internazionali? Purtroppo dovremmo scindere, saremmo anche d'accordo su certe missioni e assolutamente contrari su altre. C'è l'uscita programmata dalla Festa entro fine di quest'anno, non abbiamo praticamente nessun interesse nazionale a rimanere in Libano completamente inefficaci con dei caveat che ci impongono sostanzialmente di fare una presenza a fine se stessa, avremo interesse a potenziare sulla Libia dove abbiamo la questione dell'approvvigionamento energetico, gli interessi italiani sulla questione dei pozzi e anche il pattugliamento delle coste perché è inutile gestire gli immigrati e i clandestini quando arrivano, sarebbe bene pattugliare ed evitare che chi non ha titoli arrivi sulle nostre sponde. Per cui bisognerebbe poterle dividere, dovremmo dare un voto e il voto sarà sostanzialmente contrario. Ci sono delle missioni che hanno neanche una decina di militari impiegati che secondo voi devono essere chiuse? Sì, poi c'è la questione della pletora di presenze in mezzo mondo con uno, due, tre, insomma pochissimi militari. Lì non ha più senso, sì forse è un'antenna a capire cosa succede ma ormai riusciamo a capirlo anche stando a casa nostra e gli strumenti informatici, abbiamo informazioni da mezzo mondo in tempo reale, questa presenza abbiamo più di una decina credo di micro missioni, di micro presenze un po' sparse in tutto il mondo ma ripetiamo la più importante oltre che tornare a casa prima possibile dall'Afghanistan è proprio quella di smantellare il Libano che non ha più senso. Grazie.